Adesso un po' di cultura siciliana! Ma volevo dire... Attention please, look in me! Oggi visiteremo questo bellissimo sito archeologico borbonico. Da questa è la data la rappresentazione di un re che durante un momento di crisi ordinò ai sudditi di partire per cercare dei materiali pregiati tipo lavorio. I sudditi dissero, sì re, andiamo al nord? Certo, perché si sa, al nord è più facile trovare lavorio. Ci scusiamo per il disagio. Da questa latata la rappresentazione di alcune chiese monumentali borboniche. Da un lato vediamo il duomo, dall'altro la duonna. Ci scusiamo per il disagio. Dalla latata di fronte a voi la rappresentazione di un re che decise di dare sposa alla figlia. Così due principi si presentarono a corte e il re indeciso disse Chi di voi due saprà suonare meglio il mio strumento preferito, cioè la lira, sposerà mia figlia. Allora i due principi cominciarono a contendersi questa lira. E tira la lira di qua, e tira la lira di là, e tira la lira la lira la là. Ci scusiamo per il disagio. Attention please, look in me, look in me. Ora l'abbiamo registrato, me lo ripeto. Ora me lo ripeto.